Cerimonia conclusiva oggi al Tribunale di Gela della prima annualità del percorso di alternanza scuola-lavoro condotto dalla Liceo Classico Eschilo e dall'Ordine degli Avvocati di Gela. Una convenzione che, visto 18 liceale e 15 avvocati gelesi impegnati in elezioni teorico-pratiche mirate alla conoscenza delle basi del diritto e del lavoro degli avvocati e dei magistrati. L'esperienza sarà ripetuta anche nell'anno scolastico in corso. Oggi nell'Aula Moscato del Tribunale la consegna degli attestati agli alunni e agli avvocati impegnati nel percorso. Ho intrapreso questo percorso di scuola-lavoro in ambito giuridico ed è stata per me un'esperienza molto importante e credo anche per quelli che lo intraprenderanno quest'anno perché ti permette di fare un'esperienza diretta in primis di ciò che significa il mondo del lavoro e poi quindi nello specifico di tutto ciò che compete il ruolo di un avvocato e quindi di questo professionista legale. Credo che sia un'esperienza importante perché ti permette di fare questo percorso che al di fuori di questo ambito non si potrebbe affrontare o non in maniera così approfondita. Ci hanno portato quindi con loro pazientemente e all'interno degli studi legali o all'interno del tribunale e quindi seguendo le loro udienze sia civili che penali ma anche abbiamo approfondito temi quale il diritto amministrativo, diritto sul lavoro o diritto ambientale. Quando la scuola mi ha proposto questo indirizzo giuridico ne sono stata molto felice poiché quindi è orgogliosa e nello stesso momento spero al termine dei miei studi classici di poter un giorno appunto comunque approcciarmi al ramo dell'avvocatura. La giurisprudenza comunque è anche molto importante poiché insegna la razionalità, la ragione e via molta logica. Gli allievi hanno quest'anno svolto una lunga esperienza nelle aule di tribunale, negli studi professionali e hanno partecipato alla redazione di atti, alla preparazione di udienze potendo toccare con mano quello che potrebbe essere il loro lavoro, il loro mestiere perché una scelta universitaria non è una cosa semplice soprattutto di questi tempi e i ragazzi che hanno più strumenti, più strumenti di valutazione possono fare scelte più consapevoli. Ho visto la disponibilità di tanti colleghi ad ospitare nei propri studi i ragazzi ma soprattutto ad accompagnarli nelle aule giudiziarie per dare ai ragazzi qualche cosa anche di importante, di quella che è la nostra professione di avvocato e quindi dare le tecniche, i sacrifici che comportano questa professione e quindi per noi è veramente positivo. Esplorare il mondo della giurisprudenza, il mondo del tribunale con cui spesso noi stabiliamo rapporti quasi di paura, di soggezione è bellissimo perché consente ai ragazzi di capire veramente cosa si esprime dal di dentro questo mondo del lavoro.